Potremmo sordire dicendo una vita in provincia, di fatto mi ricordavi qualche istante fa, 1985, la prima volta che entri in provincia a Brindisi da consigliere, le cose sono un e questa volta non ha pieni poteri la provincia come qualche tempo fa, ma magari ritornerà ad avere pieni poteri e tu ci sarai sempre, come adesso. Sì, io ho fatto una convenzione per l'eternità, quindi siccome i consiglieri comunali, provinciali, sindaci non hanno diritto ad alcun vitalizio, ad alcune indennità, io spero sempre che magari facciano una normativa ad hoc, apposta per riconoscerci, non lo so, un gettone, una medaglia d'oro al valore, quindi aspetto che facciano questa legge e in attesa sono costretto a rimanere tra i banchi della provincia e del comune. Ora, a parte la tua simpatica domanda e la mia risposta diciamo in sintonia, devo dire che facevo questa riflessione stamattina, c'è stato il primo incontro del nuovo consiglio provinciale, particolarmente rinnovato, quantomeno nelle persone, perché dei vecchi consiglieri provinciali siamo rimasti tre su dodici e tra l'altro uno dei tre era anche subentrato e non era stato eletto originariamente. Facevo questa riflessione, in realtà quando era molto ambita la elezione al consiglio provinciale, tra l'altro per i socialisti era un avvenimento perché c'era una tradizione nella nostra città che riguardava i democristiani e quelli del movimento sociale, che avevano questa prerogativa di una rappresentanza anche più volte plurima nel consiglio provinciale, il fatto che nel 1985 un giovane come me, perché all'epoca avevo 30 anni, fosse riuscito ad accedere al consiglio provinciale fu un avvenimento che entusiasmò ulteriormente i compagni e gli amici della nostra città e devo dire poi fui anche affiancato dal dottore Santoro e quindi abbiamo svolto insieme un ruolo importante e significativo che ha portato anche Peppino a svolgere il ruolo di presidente della provincia per alcuni mesi, quindi da allora io poi sono stato ininterrottamente in consiglio provinciale dall'85 al 2004, siccome non avevo completato il ventennio, quindi poi sono ritornato due anni fa e quindi ho fatto il venti e il ventunesimo, adesso mi abbio a fare il trentennio, visto che è considerato che dobbiamo raggiungere gli obiettivi. Siete due gli ostonesi eletti nell'assise provinciale, c'è anche Cristian Continelli con il quale più volte nell'assise comunale vi siete confrontati anche asperamente su alcune tematiche, però è indubbio che adesso il ruolo cambia, entrambi dovreste tentare di lavorare per la stessa causa, almeno dal punto di vista di noi profani. Innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri a Continelli perché rappresenta comunque il nostro territorio ed è un onore per la città di Ostuni, prima ero nel precedente consiglio provinciale solo a rappresentare questa città, quindi adesso c'è anche un collega per cui cercheremo di fare in modo di svolgere il nostro compito, al meglio non ho dubbi che lo faccio anche il collega perché conosco la sua passione, il suo impegno, certe volte anche eccessivo, può essere fuori o sopra le righe, però bisogna dare atto di questo. I ruoli saranno diversi perché naturalmente il mio non è cambiato, facevo parte della maggioranza e continua a far parte della maggioranza della lista che ha vinto le elezioni provinciali, il Continelli sarà l'opposizione, però devo dire che più che altro è un discorso teorico e virtuale, in realtà la situazione particolare che riguarda questo ente è in mancanza di riforme della riforma e soprattutto distanziamenti delle risorse finanziarie necessarie e indispensabili è difficile poi in un contesto così emergenziale parlare di maggioranza e di opposizione, c'è uno spirito che caratterizza tutti quanti di servizio, vero e proprio servizio perché già io non condivido molto che un soggetto debba dedicare la propria professionalità, la propria capacità, il tempo, lo studio, sottraendolo alla famiglia, alla professione e che lo debba fare gratuitamente, questa è una buffonata messa in circolazione per dare in pasto ai cittadini qualcosa che ai cittadini interessa fino a un certo punto, perché il popolo non è contro la retribuzione di chi svolge un ruolo e lo fa seriamente, studia, affronta i problemi e risolve, il popolo non condivide e non accetta che si prendano dei soldi essendo incompetenti, incapaci, ladri, furbi e soprattutto non seri e a disposizione della cittadinanza, è un discorso diverso ma molto semplice che sarebbe il caso finalmente di percepire e di metabolizzare una volta per tutte.